Vince Davide, perde Golia, verdetto clamoroso sul sintetico del vicino. La spunta, con un 3-0 che non ammette replica il Gravina, torna al successo dopo 5 partite di assinenza la squadra murgiana che infligge la prima sconfitta stagionale a un bitonto che aveva fatto il pieno di punti nelle precedenti 6 gare di questo campionato. Il collettivo di Claudio De Luca resta in vetta al girone H di Serie D, ma Casertana, Francavilla, Insigne e Cerignola accorciano il passo. Tre punti d'oro in chiave salvezza invece per il collettivo allenato da Antonio Summa e Felice Ragone. Padroni di casa con Chacon a sostegno dell'unica punta di Hop, Carmude e Chiaradia giocano alti sulle corsie, ospiti con la migliore gioielleria nell'assortimento offensivo. Danna più Lattanzio più Taurino più Santoro. La prima azione è già significativa ed è sufficiente al Gravina per sbloccare il risultato. Chiaradia servito da Chacon impegna la noce dopo un minuto, Carmude arriva a rimorchio sulla respinta e fa 1-0 per i murgiani e dominio totale nel primo tempo per i padrugni di casa. Punizione di Chacon mira imprecisa. La replica del bitonto parte da questo rassoterra di Taurino che non impegna più di tanto l'iso. Lo stesso 10 degli ospiti si esibisce in un assist al bacio per Santoro che però non inquadra lo specchio con il mancino. Ghiotta occasione per i neroverti, scese in campo in maglia bianca. Molto pericolosa su suggerimento di Lattanzio e anche la successiva conclusione di Danna, l'iso è superlativo nella replica. Poi torna protagonista il Gravina. Diop servito da Di Modugno spedisce a lato. Chacon giganteggia tra gli avversari ma il suo tentativo viene murato. Lo stesso numero 8 dei padrugni di casa. Si divora la rete del raddoppio ed esalta la replica distinto di Lonoce. Lattanzio dalla parte opposta trova la deviazione in corner di Gilly. Poi arriva il 2-0. Di Modugno sforna un assist al bacio. Chacon fa centro con un tocco morbido meraviglioso a scavalcare il portiere ospite. E prima del riposo arriva addirittura il tris del Gravina. Chiara Dia lavora sulla corsia. Diop batte così Lonoce che tocca ma non riesce ad evitare il peggio. 3-0 quarto centro in questo campionato per l'attaccante dei Murgiani. Successo straipotecato già a metà gara. Ha poco da raccontare di conseguenza la seconda frazione. Il Bitonto cerca ma non trova il gol con Silvio Colella che avrebbe probabilmente rimesso in discussione il verdetto. Ancora attento l'Iso. Destro di Tuginetti dalla parte opposta. Traiettoria alta. Spazi enormi per il gialloblu. Il mio entrato Lautaro Fernandez non dosa bene la misura del lob. In preciso poi il mancino di un altro ne è entrato. Genchi per il Bitonto. Finisce così 3-0 per il Gravina che domenica prossima giocherà in trasferta lo scontro diretto con la Mariglianese. Resta in vetta alla graduatoria la squadra di Claudio De Luca nonostante la sconfitta. Ma ora con un solo punto di vantaggio nei confronti della Casertana. In arrivo c'è il derby di Puglia al Città degli Uniti contro il Biceglie. Grazie. Grazie.